Ciao a tutti e bentornati dal vostro Lefari, proseguiamo con la storia principale di Chimera Squad. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Tutti i suoi principi. La centrale 31 resta in massima allerta in tutta la città 31. Il commissario Malouf ha rilasciato la seguente dichiarazione. Ogni agente della centrale 31 piange la morte del sindaco Nightingale. State certi che assicureremo alla giustizia i responsabili. Vi informeremo sull'evolversi della vicenda. Canale 37, Silio Dash. Ok, ora che hanno parlato, posso parlare io. C'è un bersaglio critico in attesa sulla mappa della città. Completa la situazione al museo memoriale nel quartiere Downtown. Giovedì. Ok. Benvenuti alla città 31. Durante l'occupazione della Advent, la città era una fortezza con uno spazio porto attivo. Oggigiorno, cinque anni dopo che gli XCOM hanno vinto la guerra, è abitata da alieni, ibridi e umani. Ci sono nuove industrie, un autogoverno e un'agricoltura locale per sostenere la sua variegata popolazione. Variegata, eh. Contro ogni aspettativa, la città ha prosperato dopo la guerra. Non ci sono stati attacchi di rappresaglia. Fino a stanotte. Questo non lo sappiamo. Non ancora almeno. Ma possiamo scoprirlo. La centrale 31 ha chiesto il nostro aiuto per raccogliere prove al museo memoriale. Oggi ha perso dei bravi agenti. Fornitele tutto l'aiuto che potete e cercate di scoprire qualcosa. Ok. Allora, mappa della città 31. Nella mappa è visibile lo stato della città 31 e qualsiasi bersaglio a cui è possibile inviare la squadra. La Chimera Squad può intervenire su un solo bersaglio al giorno e farlo farà passare automaticamente al giorno successivo. Ok. Altre info. Esistono due tipi di bersagli. Le missioni sono bersagli tattici in cui la squadra dovrà affrontare dei combattimenti. Le situazioni sono bersagli strategici in cui la squadra non entrerà in combattimento. Strano. I bersagli attuali cambiano ogni giorno, quindi tiene sempre d'occhio la città in cerca di nuove priorità. Ok. Visualizza la situazione. Ok. Allora, la centrale 31 ha bisogno di aiuto ad analizzare la situazione dopo l'attacco di stanotte. La morte del sindaco Nightingale ha messo la città in agitazione. Rendiamoci utili. Ok. Inviare il WTT a risolvere questa situazione farà passare immediatamente al giorno successivo. Sei pronto? Sì. Abbiamo fatto il possibile per aiutare la centrale. Il commissario Maluf ci ringrazia per aver aiutato i suoi agenti a sopportare il peso dell'attacco. Va bene. Il vostro lavoro con la centrale 31 ci ha fornito delle piste. Ecco cosa abbiamo scoperto. È stata una rudimentale bomba al plasma a uccidere il sindaco. I ribelli non avevano accesso ai materiali per costruirla. Sta dicendo che hanno avuto aiuti esterni? Probabilmente. Ci sono tre gruppi alla città 31 che hanno accesso a questo tipo di ordigni. Allora, la progenie. Fenice Grigia e Sagra Spira o Spirale? Boh, non lo so. Sceglie una fazione come bersaglio dell'indagine. La scelta non può essere cambiata finché la minaccia non viene sventata. Un'ampia rete di psionici umani. La loro visione per il futuro è di una città 31 totalmente psionica con o senza il consenso dei cittadini. Fenice Grigia, un'organizzazione di trafficanti alieni. Hanno silenziosamente ammassato il tipo di artiglieria che l'agenzia ha il compito di recuperare. Un movimento religioso clandestino per ibridi. Predicano la salvezza ma solo per coloro che un tempo hanno combattuto gli XCOM. Allora, io credo che un po' alla volta dovremo affrontarle tutte queste fazioni. Per cui una vale l'altra. Andiamo con progenie. Bye. La progenie è composta da un numero ristretto e leale di umani. Tutti con capacità psioniche. Le loro vittime gli consegnano spontaneamente ciò che vogliono. E poi dimenticano tutto. Il crimine perfetto. Direttrice, questi sono criminali locali. Non sono di competenza della centrale 31. Vero. L'agenzia di recupero sostiene la polizia locale. Ma il nostro compito prevede anche di requisire i materiali pericolosi. A chi minaccia il mondo. E quei gruppi sono i candidati ideali. Quindi ora cosa facciamo? Concentratevi su un singolo gruppo. Indagate, smantellate le sue attività ed eliminatelo. Bello. Nel frattempo noi cerchiamo collegamenti con la morte del sindaco. Alla peggio avremmo tolto di mezzo una pericolosa organizzazione. Eh sì. Precisamente. La città vuole giustizia per il sindaco Nightingale. E noi la aiuteremo a ottenerla. Benissimo, non vedo l'ora. Allora, affrontare le indagini. Ogni indagine ha tre frasi. Fasi. Fasi, non frasi. Fasi. Preparatoria. Da questa prima missione scopri informazioni sulla fazione e sui suoi metodi. Operazioni. Missioni nascoste che devono essere rivelate e poi completate per rientracciare i piani principali della fazione. Eliminazione. Ferma l'attacco finale e poni fine alla minaccia per la città 31. Allora. Indagare sulla progenie. Dobbiamo scoprire qualcosa di più per poter continuare con le nostre indagini. Va bene. Registro indagine. Indagine aperta. Un'ampia rete di bla bla bla. Questo qua l'abbiamo già letto. Il comando della progenie è completamente in mano agli psionici. Una consulenza dei Templari suggerisce che si tratti di un umano con potenti abilità psioniche. Progenie. Ok. Andiamo indietro allora. Sì. Nuova recluta. Ora puoi selezionare un agente da aggiungere alla squadra. Missione critica deve essere completata entro oggi. Indagine. Area rifornimenti. Area ricerca. Mappa della città. Vai all'area ricerca. Date un'occhiata. Il quartier generale ci ha dotato di un'area ricerca. Con i progetti giusti possiamo costruire qualsiasi cosa. Bene. O meglio, potremmo con l'ultima versione. Quella che abbiamo davanti è il modello estremamente delicato del 2038. Ci vorrà tempo per fare dei test sui progetti, ma una volta che li abbiamo, saremo a posto. Bene. I progetti dell'area ricerca consentono di accedere a equipaggiamento e oggetti migliori. Ogni progetto può sbloccare nuovi progetti per l'area rifornimenti XCOM, nuovi potenziamenti per armi o corazze o una varietà di altre cose utili. Assegnare degli agenti all'area ricerca riduce il tempo necessario a completare un progetto. Puoi fare progressi solo in un progetto dell'area ricerca alla volta. Sono necessari diversi giorni per completarlo e di solito il prezzo va pagato in risorse come l'Elerium. Puoi assegnare un agente all'area ricerca per accelerare il progetto in corso, ma così non sarà disponibile per missioni o situazioni. L'Elerium è una delle tre risorse necessarie all'agenzia e viene speso per completare progetti nell'area ricerca. Allora, personale Android. Qua ci sono tutte, eh. Costruisci centro operazioni Android. Questa rete permette l'uso di Android nelle missioni tattiche e sblocca nuovi progetti dell'area ricerca. Costo 10 di energia, o perlomeno... no, questo qua è l'Elerium, dai. E due giorni, presumo. Selezione e inizia un progetto dell'area ricerca. Che conferisce una unità tattica Android. Acquistabile nell'area rifornimenti. Sblocca tutti i progetti di base. Vai. Ok. Seleziona un progetto. Eh, l'ho fatto. Basta, eh. Poi, area ricerca due giorni. Qua abbiamo quattro persone, è meglio tenercele tutte strette. Armeria. Vediamo un po' com'è qua. L'armeria è il luogo in cui si gestiscono gli agenti. Dotazione. Gestisci armi, corazze e altri oggetti. Abilità degli agenti. Sblocca nuove abilità. Promuovendo gli agenti che hanno ottenuto sufficienti PIE. Biografia degli agenti. Scopro più informazioni sul passato degli agenti. Colorazione corazza. Cambio il colore dell'uniforme. Seleziona l'icona di un agente per avviare la gestione. Completando progetti dell'area ricerca, altri slot diventano disponibili nella dotazione. Le promozioni vengono assegnate agli agenti in base alle loro prestazioni in combattimento. I nuovi gradi conferiscono statistiche aumentate, nuove abilità e nuovi programmi di addestramento. E tutto può essere gestito da qui. La direttrice ha convinto il consiglio cittadino che a corto di personale non siamo efficienti. Quindi possiamo fare arrivare altri agenti alla città 31. Non tutta la squadra per ora, ma è già qualcosa. Ah, bene. Allora, già mi ispira questo perché ho letto una cosa interessante. Ruolo. Spostamento e nemici alleati. Veleno. Axiom. Danni elevati. Destruzione e coperture. Fuoco di precisione. Colpi multipli. Spacco. Furia. Ariete. Proiezione lingua. Stretta. Impedendogli di agire durante il proprio turno. È interessante. Centro perfetto. Desperado. Colpo performante. Allora, mi piacerebbe averli tutti e tre onestamente. Però nel dubbio, dai, scegliamo questo, eh. Whisper, c'è un problema. Axiom. Benvenuto. Che c'è? Qualcuno ha preso l'armadietto più grande. Aia. Sì, sono stato io. Sapevo che alla fine saresti venuto qui, così l'ho preso per evitare che qualcun altro lo occupasse. Sicuramente. Non preoccuparti, sposterò le mie cose. È quello il problema. L'ho già fatto io, con violenza. Ah. Non hai visto il biglietto? L'ho visto dopo. Me ricomprerò quello che possa. Ma allora è vero, poverino, che gliel'hai tenuto praticamente? Vabbè, dai. Dotazione, abilità. Dotazione fucile a pompa. Oppure, oppure sta, sta cippa. Oggetto per eruzione, oggetto di utilità, niente. Ok, dai. Ragazzi, buttiamoci in missione perché sono curioso, eh. Agenti non operativi. Allora, tu puoi andare all'area ricerca? Eh, eh. Eh, sì che puoi, è qua. Ecco, ecco. Tiè, stai lì, ok? Mappa della città, vai. Indagare sulla progenie. Un bersaglio per una missione di combattimento critica. Ah, già, è vero. Eccola qua. Questa, i crediti, sono una delle tre risorse necessarie all'agenzia. Puoi spenderli nell'area in rifornimenti per acquistare nuovi oggetti o potenziare quelli che già possiedi. È questo qua, la brusione, la cosa critica, sì? Parla Whisper. Vi riporterò qualsiasi attività che richiede la nostra attenzione. A proposito, un'azienda di facciata della progenie ha aperto il fuoco sulle centrali 31. Dovremmo occuparci, no? 35 crediti. Le azioni ostili hanno bisogno di un capo per operare. Se siete autorizzati dalla direttrice, potreste doverlo neutralizzare. È sempre preferibile limitarsi a catturare il bersaglio. Un capo nemico, se preso vivo, fornisce informazioni preziose. Ok, ok. Dopo lo stordiamo come ho fatto prima con gli altri due, insomma. Prima, altra volta. Io dico prima perché l'ho giocato 6 ore fa, comunque va bene. La centrale 31 ha chiesto di parlare con il proprietario di questa società riguardo i suoi legami con la progenie. A quel punto i suoi dipendenti hanno tirato fuori le armi. La polizia è a malapena riuscita a uscire. Pessimo servizio clienti. Ci sono state perdite per la centrale 31? Non ci sono state vittime. Mirate allo stesso risultato. Ok. Irrompiamo. Ci sono ben tre porte qua, eh. Allora, questo qua per prima. Se i riflessi aumentate, tutte le unità che entrano da qui ottengono più 25 di difesa per un round. Cazzo, ma quando le persone servivano qua? Supervisore. L'ultima unità che passa per questo ingresso attiva automaticamente i guardi dopo l'eruzione. Il colpi a segno sui nemici saranno critici. Ah, interessante. Allora, mettiamo Cherub di qua, ok. Finestra secondaria, mettiamo Terminal. E porta principale mettiamo Godmother e Verge. Vai. State dietro di me. Vediamo un po' come va. Guarda di entrare. Che violenza. Fuoco di eruzione. 100% dici? 85, 64. Vai. Distruggilo. Grandissimo. 98, 87, 61. Allora, andiamo ovviamente con il 98. Vai. Grandissimo. 88, 86 e 68. Però, cavolo, sono molto resistenti, eh. Questo qua forse lo scemo ad ucciderlo. Proviamoci, dai. No, non è morto, cavolo. 89 o 60? 89. Facciamo fuori questo, dai. Che cattiveria, eh? Cosa? Ho visto? Una volta per missione, un agente può essere scostato sulla linea temporale in modo da farlo agire nel turno successivo. Questa abilità è condivisa da tutta la squadra. Preparazione fornisce un bonus difensivo e anticipa il turno dell'agente nella linea temporale. Usa questa abilità quando un agente si trova in una situazione pericolosa o per sfruttare tattiche coordinate. Collaborazione, eh. Ho capito. Allora, io direi che tu puoi tranquillamente andare qua. Ma granate non ne hai mica, no? Nessuno ha granate qua, vero? Scudo cinetico. Colpo caricato. Colpisce un nemico con lo scudo di energia, consumando tutta la carica. Tre di danno gli fa. Ah, questo qua praticamente è il suo attacco corpo a corpo, ho capito. Vabbè, proviamo, dai. Boom. Che figata. Ah, già, perché aveva la guardia lui. Eh, 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 è vero. L'ultimo entrato da questo porto qua aveva la guardia, aveva. Quegli impiegati erano sotto controllo psionico. Sembrava la rete psionica dell'Advent. Sono felice di non essere mai stato un loro pezzo. Ok. Beh, prima stanza ripulita, eh. Molto facilmente, in realtà. Ah, solo Terminal per forza di cose, ok. Buona visibilità. Tutte le unità che entrano da qui ottengono più 25 di mira. Ci sono meno nemici aggressivi presenti in questo ingresso. Ah, ho capito. Quelli aggressivi sono quelli che ci attaccano subito. Praticamente. Va bene, non importa, dai. Tieni. Andate e fategli il culo. Bravissima. Allerta schiavo. Allora, vediamo un po', eh. Sorpresa. 100%. 100%. 100% di possibilità, davvero. 75. Questo qua è un po' inutile, invece. Allora, io direi di fare fuori questo qua che è in allerta, eh. Vai. 100% non l'ho ben capito, onestamente, dato che era pieno di cose. Comunque, vabbè. 98. Allora, io direi andare con questo. 100% oppure 83%. Questo qua, dai. Grandissimi. 62% è un po' pochetto, però speriamo, dai. Eh, non è morto. Allora. Tu vai qua. E lo uccidi. Vado di là. Non allontanarti troppo. Non puoi mancarlo, dai. 32%. Lo mancherà sicuramente. No. Ho avuto culo. Quindi, a posto? Se procede con l'eruzione, immagino. State per entrare negli uffici. Il proprietario deve essere barricato lì dentro. Ok. Allora, ingresso esplosivo. Tutti nemici non aggressivi a guardia di questo ingresso rimangono sorpresi. Concludi l'affare. L'ultima unità che passa per questo ingresso infligge più 3 danni durante l'eruzione. Danni a genti probabili. Eh, no. Male, allora. Evidentemente perché sono tutti aggressivi. Eh, no. Mi spiace, ma... Facciamo il paraculo e entriamo di qua, va bene? Vai. Eh, se entrare di là vuol dire automaticamente ricevere danno. No, che non mi piace. Allora, questo qua possiamo ucciderlo, mentre quello là no. Per cui andiamo con questo. No. Grandissimo. 60%. Benissimo. Eh. 70. Speriamo. Buono. Poteva andare peggio. Il VIP e come si cattura. Come si cattura? Picchiandolo, no? No, no, scherzo, ragazzi. Sarà da liberare la cosa prima o no? Allora, facciamoci un attimo strada, eh. Chi sto comandando io adesso? Lui? Ah no, lui, 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 ok. Mi ero un attimo perso. Lo mettiamo qua. Ok, mi muovo. Perché così è una visuale su quello lì, più o meno. 52%. 52%. 34%. Vabbè, vediamo, dai. Porcaccia. Aio. Allora, tu vai... ...qui... E i miei attacchi è quello. Almeno ci provo. Tiro a ventaglio. Godmother spara con l'arma a fucile a pompa in un cono a corto raggio. Danni a nemici multipli. Proviamo? No, ma secondo me... Secondo me no, non lo prendo mica. 50%. Vai. A un metro di distanza. Però, d'altronde, 50%, insomma... Eh. Ah, anche loro lo fanno. Ebbè, è vero, la progenie, cavolo. La progenie è così. Stardo, infame. Scatto. 53. 48, 39. Vediamo. Eh, non abbastanza. Fuoco spirituale. Che facciamo qua? Eh, bella domanda, eh. Ti metti qua? Attraverso. Eh. Provi a sparargli? Anzi, anzi, anzi. Torpore? Ma no, ma torpore no, è sbagliato. Questo volevo dire. Ecco. Chi è? Il nemico è catturato. Benissimo. Ma io non capisco mica. Ma questo qua? Cattura o uccide il sospettato? Guardi, preparazione, ricarica. Ma quello lì allora è da menare, sì? Eh sì, cavolo. Ce n'è un altro là, non me ne ero accorto. Ma che cazzo? Fingete di liberarvi dall'onda della morte. Eh, vabbè. Colpa mia. Mancato, ma come? Faccia a faccia, ma perché? Allora, tu. Tiro a ventaglio, no? Sotto missione, sì. Ma su questo però, ce la fai? No. Vabbè, fallo su quello, dai. Così aumentiamo le cose prese. A fine cosa? A fine missione. Tu puoi farlo su questo? Vai, menalo come un caco. Infame. Diglielo. E tu, cavolo. Eh, c'è. Beh, possiamo anche fare troppo in realtà. Sì. Ah, mi sa che non lo fa mica, sapete? Perché? Sotto missione, vai. Perché è uno psionico, psionico anche questo, quindi non lo fa. Non me l'aspettavo. Come andrò a fare? Pulpo caricato. Sostituisce sotto missione. Quello li vediamo? Lo catturiamo, dai. Ho effettuato l'arresto. Yes. Valutazione eccellente. C'è una possibilità, 80%, di ottenere 20 informazioni da 4 nemici catturati. Benissimo, direi. Meglio non poteva andare, secondo me. 35 crediti, 20 informazioni ottenute. Benissimo. Dagli archivi. Bradford, alieni nella vostra agenzia. Jane, come ti viene in mente? Kelly, qual è la più grande minaccia alla nostra esistenza? Bradford, il ritorno degli anziani. Kelly, e di chi avremo bisogno per combatterli? Di tutti? Capisco. Ho visto le proiezioni. Ma credi che il comandante approverà? Kelly, credo che il comandante abbia sempre visto il quadro generale. Trascrizione dell'incontro bla bla bla. Progetto dell'ora ricerca completato. Personale androide. La progenie era in cerca di beni preziosi. Cosa si nasconde dietro questo improvviso bisogno di fondi? Non ama gli ibridi. Il che costituisce un movente per assassinare il sindaco. Ma per quanto riguarda i mezzi, con i poteri psionici avrebbe avuto l'infiltrato perfetto. Un membro della scorta del sindaco Nightingale. Ma noi abbiamo evitato tutto ciò. Operazione attiva. Rintracciare le squadre della progenie. 2 marzo. La chimera squad ha fatto chiudere un'azienda di facciata della progenie. Esaminare i dati sequestrati ha promesso all'agenzia di avere un'idea più chiara dei loro obiettivi. Continua. Questo qua praticamente è lo sviluppo sull'indagine, giustamente. Stato dell'indagine. Ok, vai alle operazioni speciali. Queste veglie spontanee si sono tenute in onore del sindaco Nightingale, il cui recente assassino tormenta ancora la città 31. Migliaia di cittadini hanno voluto porgere l'ultimo saluto al nostro primo sindaco eletto democraticamente. Un partecipante ha detto Lei sì che l'aveva capito. Non si trattava di rendere le cose migliori per me e per la mia gente. Ibridi, alieni, umani. Lei lavorava per tutti noi. Il consiglio cittadino ha votato all'unanimità per rendire le elezioni entro il mese. Il consigliere Parata ha rilasciato questa dichiarazione. Il sindaco Nightingale una volta ha detto Il governo non ha bisogno dell'approvazione popolare ma deve avere il consenso della popolazione. Canale 37 Silio Dash Silio Dash Ok Vai alle operazioni speciali Voglio andare all'era ricerca io Conferisce una unità tattica androide Unità di androidi acquistabili nell'era rifornimenti Sblocca tutti i progetti di base dell'era ricerca Ok Allora Armi modulari È funzionale ma per rispondere alle minacce dovremmo fare delle modifiche Personale android 25 di Elerium che abbiamo Ricompense Gli agenti possono equipaggiarsi di mod per armi nell'armeria Nuovo oggetto dell'era rifornimenti caricatore automatico Nuovo oggetto dell'era rifornimenti cassa caricatore esteso Corazza modulare Possono equipaggiarsi di mod per corazza nell'armeria Wow Android modulari Ah qua facciamo un sacco di cose allora Andiamo con le armi Ok Cambia Eh no è vero Uno alla volta Ce l'ha detto prima Ce l'ha detto prima Per cui niente Ok Facciamo operazioni speciali vediamo per visualizzare le operazioni disponibili Nuove androide Hai costruito un'unità androide Questi soldati versatili sono un supporto prezioso per gli agenti della tua squadra principale In qualsiasi missione in cui uno degli agenti viene estratto un androide può prendere il posto per il resto dell'incontro Estratto cosa vuol dire? Che è morto? Gli androidi accompagnano il VTT ma non prendono parte agli scontri automaticamente prendono invece il posto di agenti feriti o fatti evacuare Puoi proseguire No scusate Puoi assegnare un androide all'eruzione con la squadra al posto di un agente che è stato evacuato e una volta assegnato rimarrà fino alla fine della missione Ah praticamente ogni cambio di distanza possiamo metterlo e non nel mezzo diciamo Gli androidi possono usare ogni tipo di arma e di oggetto di utilità Possono anche essere potenziati con pezzi speciali per migliorare le loro statistiche chiave I potenziamenti si sbloccano nell'area ricerca Ok Colorazione corazza azzurrina che è più simpatico Bene Vediamo un po' cos'è quest'operazione speciale Allora le operazioni speciali sono compiti individuali per gli agenti che aiutano la Chimera Squad e la città 31 possono ridurre le rivolte per far guadagnare risorse o conferire vantaggi temporanei nelle missioni Ogni operazione speciale fornesce una ricompensa diversa alcune ogni turno alcune solo quando l'operazione è completata Quando gli agenti salgono di grado sbloccano le operazioni speciali avanzate Queste operazioni speciali di livello più alto richiedono agenti di livello superiore per essere completate Gli agenti possono annullare anticipatamente le operazioni speciali per essere riassegnate ad altri compiti ma tutti i progressi fatti andranno perduti Ok Strette di mano Costo 3 giorni Convince gli individui benestanti e i gruppi d'affari a fornire finanziamenti temporanei in questo momento di crisi Lavoro pesante 65 informazioni 25 die elerium 85 crediti Integrati con la centrale 31 per un breve periodo In cambio ottieni agenti che pattugliano nella città per conto nostro Crea file seguirenti per far riuscire alle scoperte i trafficanti che hanno destini di elerium E il problema è che questa persona mi sta via 3 giorni cavolo Vuol dire 2 lavori Ah beh proviamo dai Tieni Sì 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 Vai O la va o la spacca Ok Bene ragazzi E pronti per la prossima missione relativamente parlando Noi chiudiamo la puntata Grazie e alla prossima Grazie